Sia il progetto della società abiatense BCS che quello della Bergamasca S2 sono stati approvati, il tanto contestato parco commerciale di Abbiategrasso si farà, nonostante l'opposizione del comitato cittadino Abbiategrasso che vorrei. Io credo che sia una vera tragedia perché una grande qualità di Abbiategrasso e di questo territorio è il fatto di essere ancora un territorio in cui l'agricoltura, la campagna hanno ancora una loro bellezza e un loro senso. Due parchi commerciali costruiti in questa zona distruggeranno il territorio e distruggeranno l'abbiatense, Abbiategrasso diventerà uguale a Trezzano sul Naviglio e quindi non vedo perché una persona deve spostarsi più lontano per andare in un posto più scomodo per raggiungere Milano che però non ha più le qualità che aveva. Io conosco moltissime persone che sono venute ad abitare qua proprio per le qualità di questo territorio, il fatto di essere vicino al Ticino, il fatto di avere una campagna ancora bellissima. Due centri commerciali di quella grandezza, praticamente grandi quasi come il centro di Abbiategrasso, snaturano completamente una zona.